Amici sportivi bentornati sul mio canale, io sono Antol99 e oggi siamo qui per parlare di nuovo di Palermo e soprattutto per questo post partita di Palermo-Parma 0-0. Prima di continuare ragazzi vi chiedo come sempre un supporto lasciando un like. Andiamo alla partita, un Palermo sinceramente d'applausi perché non mi è dispiaciuto come ha tenuto bene il campo. Ha giocato secondo me una partita molto bella dal punto proprio di vista dell'impegno, del fatto di aver migliorato su alcune accortezze. Mi è piaciuta anche molto la formazione iniziale cambiando Ceccaroni con Nedelciaru. Purtroppo Ceccaroni si vede che nelle ultime partite ha creato purtroppo dei problemi in difesa ma fossero solo quelli problemi. Purtroppo questa squadra dal punto di vista psicologico si nota ha gravi problemi proprio dal punto di vista sia nel saper ripartire, nel saper sfruttare meglio le occasioni. Tant'è che oggi non mi va neanche di riassumere un po' tutte le occasioni sprecate che abbiamo avute ma allo stesso tempo anche parate dal portiere del Parma, Cicizola. Ci sono state delle occasioni che potevano essere sfruttate meglio, ci sono state altre occasioni in cui si potevano fare delle azioni migliori piuttosto che fare le acrobazie in campo. Però detto questa è stata una partita secondo me impostata bene dal mister Mignani e voglio anche fare un grosso in bocca al lupo a Di Mariano che purtroppo è uscito a metà a primo tempo per un infortunio, purtroppo è uscito in barella. Speriamo in realtà che sia qualcosa di meno grave ma quando un giocatore esce fuori con la barella solitamente non è mai un buon segno. Comunque è stato un Palermo che mi è piaciuto molto, un po' meno e mi dispiace dirlo Brunori. Brunori oggi completamente fuori dal gioco, forse perché il Parma aveva un po' paura in teoria di Brunori sapendo quello che aveva fatto all'andata e magari l'hanno studiato di più, sapevano un po' come attorniarlo bene. Il Parma tuttavia a questo punto gli fa comodo, gli fa comodo al Parma, chiaramente un po' meno per il Palermo che deve trovare più punti possibili certamente per piazzarsi nel miglior modo possibile per i playoff. Però tutto sommato è stata una partita vera, una partita in cui non mi sono annoiato. Devo dirvi la verità, ci sono stati molti rimpianti in questa gara e sono stati dei rimpianti anche perché chi dice che Di Francesco è scarso, chi dice che Henderson è una atta, chi dice eh ma Segre doveva giocare titolare. Ragazzi, quando vedi Henderson che si impegna, vede il compagno in avanti, riesce a verticalizzare, io ho sempre detto che questa squadra ha della qualità in mezzo al campo. Il problema è che purtroppo non si è stati mai in grado di creare un vestito adatto per questo Palermo. Ad esempio Di Francesco per me oggi è stato il migliore in campo, per me Di Francesco è stato quello che è stato tra virgolette l'ago della bilancia. Continuamente in fase offensiva, in fase difensiva, mi è piaciuto molto Lund, mi è piaciuto Di Mariano quando è stato in campo, a parte qualche passaggio un po' a vuoto ma ci può stare, idem Buttaro. Buttaro per me non mi è dispiaciuto, a parte quella mezza cappellata che ci poteva costare il gol di Di Chiara. Ma a parte questo, abbiamo fatto una onesta partita contro la capolista che di certo ha bisogno di confermare il più possibile il primo posto in maniera matematica per il ritorno in Serie A, perché l'hanno meritato, hanno fatto più punti. È una squadra che onestamente, non dico che ha stravinto il campionato, però è quella che è stata molto più continua. Ma alla fine il Parma è stata quella più squadra. L'ho detto già da inizio campionato, il Parma per me è una di quelle squadre che andava in Serie A. E infatti è così. Cioè, una squadra che comunque, nel bene o nel male, giocando male, giocando bene, riesce a portarti a casa un punto è pur sempre una grande squadra. È una squadra che riesce mentalmente, e questo è importante soprattutto per un club che vuole salire in Serie A. Oggi devo dire che il Palermo, qualcuno diceva che col Parma eravamo spacciati. Quindi, francamente, questa supremazia del Parma non l'ho vista, ma da una parte anche per la bravura del mister e da una parte anche per la bravura dei ragazzi, che hanno fatto pochissime sbavature in difesa. In attacco sicuramente oggi, a differenza delle altre volte, è venuto a mancare il gol. Però sono soddisfatto. Terzo pareggio di fila per Mignani, questo è il più importante, secondo me, perché potrebbe dare la svolta a partire dalla prossima partita contro la Reggiana, che oggi ha perso 4-0 con il Cosenza. Vediamo cosa succederà. Sicuramente Mignani ha cambiato il Palermo, e lo dico in una maniera netta, ma non perché voglio essere il paracuolo di Mignani, semplicemente perché è la verità. Quando vedo un giropalla del genere, che i centrocampisti subito cercano negli esterni, che si sanno abbassare, si sanno alzare, nel momento in cui si deve fare una fase offensiva e difensiva, e si riescono a chiudere tutte le linee di passaggio, per me questo è un gran Palermo. Certo, ancora ne usciamo con tre punti in tre gare, non vinciamo da un bel po', non vinciamo da due mesi, dall'ultima gara contro il Lecco, se non erro. Tuttavia, questa squadra, non lo so, sono fiducioso. Non lo so se ai play-off, qualora ci dovessi andare, perché ancora nulla è matematico, giusto per precisare. Non sono convinto che ai play-off faremo chissà che cosa, però si possono creare i presupposti di rendere il Palermo una mina vagante in questi play-off, qualora iniziamo a fare pian piano dei risultati. Mancano adesso quattro giornate alla fine, questo Palermo mi piace, finalmente vedo una squadra più viva nel gioco. Certo, qualche volta qualche sbavatore la continua a fare, ma è una squadra viva, è una squadra che adesso gioca a palla a terra, quando si ha la possibilità si fa anche il lancio lungo, ma lo si fa in maniera precisa. Si gioca con un Di Francesco ritrovato, che si è ritrovato a fare il ruolo di trequartista e lo sta interpretando bene, è un mancuso ritrovato. Se c'è una cosa, ma proprio, dico, qua sono pignolo io, Mignani dovrebbe fare i cambi un po' prima. Diciamo fare i cambi al settantesimo, insomma, lì lì non è proprio il top, però, dico, ci sta. Ha valutato che in quel momento della gara la squadra stava facendo bene, poi quando non hanno avuto più, ad esempio, Anderson, non hanno avuto più Brunori, che secondo me l'avrei cambiato almeno un quarto d'ora prima, li ha cambiati, però tutto sommato ha fatto una bella gara. Quindi, applausi a questa squadra, sono contento. Il Parma tuttavia si avvicina sempre di più alla Serie A, squadra che nonostante l'astio tra le tifoserie, tuttavia è una squadra storica, una squadra che merita un campionato importante come la Serie A, che onestamente con la Serie B non ha niente a che vedere. Detto ciò ragazzi, fatemi sapere la vostra sotto i commenti. Io sono già soddisfatto, sono contento di questa prestazione, ma anche a prescindere da come finiva la partita. Fatemi sapere nei commenti ragazzi che cosa ne pensate, noi ci becchiamo alla prossima e sempre. Forza Palermo!